Chiudere la struttura come hotspot credo che non è possibile, però che ti possa essere un'attenzione maggiore in modo tale da poter trasferire prima possibile le persone che arrivano a Lampedusa, anche perché Lampedusa è una porta, è un passaggio e quindi è un'ulteriore etappa che queste persone devono affrontare. Quindi forse il sindaco voleva dire di chiudere l'ottesposto nel senso di portiamolo in Sicilia direttamente e gli risparmiamo un'ulteriore etappa, anche perché poi da Lampedusa vengono trasferite comunque in Sicilia, comunque in Italia, quindi forse voleva dire questo il signor sindaco e quindi ci potrebbe anche stare.